Nessuna restrizione, solo il rispetto delle regole previste dall'ordinamento penitenziario. Cesare Pietrangelo, agente in servizio al carcere di Campobasso e rappresentante della Federazione Nazionale per la Sicurezza della CISL, ha voluto allontanare le voci che parlano di una troppa severità nella gestione dell'istituto di pena da parte della direzione. Dopo la protesta avvenuta mercoledì sera nella seconda sezione della struttura di via Cavour, le cui motivazioni vanno ancora definite, si sono scatenate polemiche per alcune problematiche quali sovraffollamento e appunto per una serie di decisioni che il nuovo vertice avrebbe adottato. Tutto sembra ruotare attorno alle telefonate concesse ai detenuti, oltre al fatto che in quella sezione pare alcuni dormissero su dei materassi. Sull'episodio che è rimbalzato sotto i media nazionali sono state aperte due inchieste e intanto Pietrangelo difende l'operato della direttrice. Abbiamo sicuramente un numero di detenuti molto molto elevato rispetto a quello che è l'organico presente in istituto. La carenza organica ormai è cronica in tutti gli istituti della Repubblica italiana e non solo, anche di altri operatori. Abbiamo una popolazione detenuta sicuramente più irrequieta forse rispetto al passato, tutte cose che però possono essere fronteggiate laddove c'è possibilità concreta di poter utilizzare personale e soprattutto laddove le regole vengano applicate così per come sono scritte e per come sono sancite. Il garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mario Palma, nei giorni scorsi ha visitato l'istituto Campobassano e sta mettendo a punto la sua relazione. Intanto Pietrangelo ricorda quanto il lavoro dei poliziotti penitenziari sia delicato e difficile e di come tuttavia venga svolto con professionalità, nonostante la carenza di personale e un numero elevato di detenuti. Con il nuovo direttore non è che sia cambiato qualcosa, il nuovo direttore ha semplicemente chiesto il rispetto delle regole previste dall'ordinamento penitenziario, dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, nonché ha fatto applicare gli stessi ordini di servizio che sono stati redatti dai suoi predecessori, quindi dagli altri direttori. Ha condiviso il rispetto delle regole unitamente a tutto il personale della polizia penitenziaria che ha trovato in questa persona un assoluto baluardo per ripristinare quelle che potevano sembrare regole che non possono trovare proprio la piena applicazione.